Il sindaco di New York, Bill de Blasio, reagisce alla protesta silenziosa dei poliziotti che domenica durante i funerali di uno degli agenti uccisi il 20 dicembre gli hanno girato le spalle quando ha preso la parola. De Blasio, accusato di non avere difeso il corpo in occasione degli ultimi fatti di cronaca, ha attaccato. Hanno mancato di rispetto alle famiglie delle persone coinvolte, questo è il punto. Non hanno avuto rispetto per chi ha perso i propri cari e non riesco a capire come qualcuno possa fare una cosa del genere, visto il contesto. La protesta era stata inscenata durante la cerimonia funebre per l'agente Wen Jian Liu, ucciso il 20 dicembre assieme al collega Rafael Ramos. La polemica nasce nel contesto delle proteste contro l'uso eccessivo della forza da parte della polizia che ha attraversato gli Stati Uniti negli ultimi mesi.